eccoci qui a bordo della DS3 Givenchy in edizione comunque speciale in serie limitata solo 25 esemplari non è così Elena? solo 25 esemplari siamo a bordo della nuova DS3 Givenchy Le Makeup una vettura unica esclusiva realizzata in partnership appunto con la Maison francese che condivide con DS Automobile la stessa passione per i dettagli la cura e l'utilizzo di materiali nobili piuttosto che la ricerca di colori di texture particolari e questa vettura appunto in edizione limitata è caratterizzata da un colore della carrozzeria specifico uno unico un bianco perlato matt con un effetto al tatto quasi ruvido quasi granulare quindi molto particolare associata a un tetto Whisper lo stesso colore del Whisper lo troviamo chiaramente negli specchietti e nei coprimozzi gli interni sono caratterizzati da una plancia rosa anodizzato che diffonde una luce molto molto luminosa molto chiara in tutto l'abitacolo ed è valorizzata soprattutto dagli specchietti di cortesia che hanno una luce a led specifica entrambi proprio per illuminare bene il viso e riflettere questo rosa in tutto il nome della bellezza per far risaltare la bellezza l'elemento più importante chiaramente nel bracciolo che è logato Givenchy che si trova nell'appoggi gomito centrale che alloggia un kit specifico di trucchi realizzato appunto da Givenchy Le Makeup che è il kit il must che deve avere una donna a bordo quindi un mascara il rossetto le rouge e la cipria le prism i dettagli non sono lasciati al caso no assolutamente anche perché la vettura può diventare uno spazio privilegiato per noi per dare l'ultimo ritocco al trucco prima di scendere o prima di metterci al volante addirittura e poi se parliamo di dettagli sicuramente nuova DS3 vediamo la raffinatezza e la cura del dettaglio anche solo nella lavorazione della pelle a braccialetto d'orologio che in questa edizione in particolare è in nappa, pelle nappa crescendo meravigliosa che sfuma dal bianco al nero quando arriva e quanto costa? allora arriverà brevissimo quindi nei prossimi mesi e il costo varia da 25.000 euro per la versione BlueHD 75 cavalli a 26.100 per la versione invece benzina con il motore PureTech 1200 110 cavalli col cambio automatico un vero e proprio gioiellino